un saluto e benvenuti a tutti gli amici del somi smart channel siamo oggi insieme a zombie hive nuovo gameplay se devo essere sincero non l'ho mai giocato quindi sarà tutto nuovo tutto in diretta con voi qui abbiamo le impostazioni scorri lento io direi normale muovi la fotocamera manuale on apertura chiusura italiano ovviamente titoli e ok chi se ne frega chiudiamo poi abbiamo altri pulsanti che adesso non facciamo e iniziamo subito il gioco vediamo come funziona io non lo so nemmeno quindi sta a posto c'è questa bella macchina macchina della polizia militare ha giusto il gioco tratta di zombie quindi probabilmente noi dobbiamo tritarli in qualche modo o almeno credo e quella è una trivella cingolata bellissima perfetto questo è il filmato introduttivo praticamente qualcuno sta facendo qualcosa ci faranno giocare mai ok qui abbiamo la nostra bella introduzione deve essere venuto qui senza nessuna informazione a causa di un ordine urgente questo è il nuovo centro di ricerca per armi h un misero immenso incidente di zombie appena accaduto benissimo le squadre stanno scendendo ok il piano 2 è stato aperto se invece ci sia un sopravvissuto dietro la porta benissimo pigiamo sulla freccia nuovo sopravvissuto trovato ragazza e certo se non ce lo dicevi non l'avevamo capito benissimo abbiamo salvato la ragazza e in quale altro modo ok no ma ma ci piace in fondo fare questi video così ok perfetto costruisci benissimo abbiamo cambiato la punta al trapano torniamo indietro intanto il trapano sta distruggendo un altro piano c'è ok potenziamo anche i nostri soldati benissimo addirittura viene moltiplicato benissimo praticamente ok quindi funziona così il gioco in realtà funziona semplicemente nell'app gredare se così possiamo dire ogni cosa a nostra disposizione quindi in questo caso chiudiamo qui in questo caso stiamo facendo un po di upgrade alle persone alla trivella la macchina anche possiamo fare gli upgrade benissimo quindi abbiamo il nostro furgoncino con un bellissimo furgone blindato e ci voleva perché è molto meglio campione vendi tutto non so nemmeno perché ok torniamo indietro ok andiamo qui dove lampeggia vediamo che cosa ci dice a perfetto c'era un premio da ritirare ok torniamo giù bene un po di casse ok abbiamo ottenuto un cubo di potenziamento benissimo vediamo se possiamo potenziare ancora qualche altra cosa qui no e qui nemmeno benissimo qui intanto si sta scendendo sempre sempre di piano io penso che sia un gioco più infinito perché non non sembra che ci sia un livello cioè non so come si fa ad avanzare forse è questa qui la percentuale che sta qua sopra però non saprei devo essere sincero non lo so intanto vediamo le varie punte che saranno disponibili per la nostra trivella c'è qualcosa di mostruoso ok io direi di cambiare ma si cambiamo anche il corpo della nostra trivella benissimo e cambiamo anche la turbina della nostra trivella bellissima questa cosa di poter potenziare la macchina pezzo per pezzo mi piace davvero tanto ma si mettiamogli anche una nuova turbina tanto l'abbiamo appena messa una che ci importa perfetto andiamo a ritirare un altro premio ok vari sopravvissuti perfetto ok chiudiamo e intanto la nostra trivella si è data parecchio da fare ottimo abbiamo salvato un altro sopravvissuto o almeno credo qui non possiamo potenziare niente ok abbiamo preso un altro premio più piani andiamo giù e più guadagniamo ma questo penso che era scontato vediamo se possiamo potenziare le nostre forze dell'ordine pare proprio di sì e io direi di fare proprio quest'upgrade e ci prendiamo questo bel soldato verde benissimo bs2 team ok e sono già belli e operativi intanto noi qua stiamo a vedere un po' di robetta così cerchiamo di scoprire insieme questo gioco come funziona io credo proprio che il fatto della percentuale qui sia proprio la percentuale di completamento del gioco a fianco c'è la percentuale di completamento dello sfondamento della porta qui a fianco eccolo qua che lo possiamo vedere anche al di sotto benissimo qui c'è fuggito vuoi inseguire i super zombie feriti ok bene quindi quando esce un super zombie come quello c'è la possibilità di fare una sorta di scontro corpo a corpo selezionando appositamente ovviamente lo zombie perché se non lo selezioniamo io penso che ci uccide e basta molto semplicemente sì siamo al decimo piano e siamo all'81% del lavoro totale qui abbiamo preso un altro cristallo viva me questo gameplay è un po' lunghetto però vabbè metteteci che non so come funziona metteteci che è lungo proprio di suo cioè dobbiamo fare parecchi e parecchi potenziamenti per poter andare avanti benissimo siamo arrivati al 100% clicchiamo qui vediamo cosa ci dice vendi tutto vendi tutto e vendi tutto ok no non era nulla benissimo era una percentuale che non ho capito sinceramente ecco qui un'altra volta lo scontro all'attacco successo abbiamo vinto grande e abbiamo preso una fiava di super dna chiudiamo il commento qui che non ci interessa abbiamo appena salvato un altro civile e ne stiamo salvando proprio adesso un altro ok e ragazzi questo è io penso che sia così il gioco per per tutto il tempo non credo che ci sia altro che possiamo aggiungere è tutta una questione di potenza 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 e ancora potenza e basta penso che possiamo chiudere qui il video anche perché non mi fa vedere niente ah ecco come funziona che scemo bene forse si possono scambiare quelle monete colorate con dei diamanti in particolare abbiamo altri ostaggi benissimo prendiamo altri premi doppiamente bene vediamo se abbiamo altro no sopravvissuti premio per la ragazza grande la ricerca diamo un più no devi catturare più super dna ok e bisogna scorrere parecchio molto parecchio non è italiano ma ci arrangiamo allora con la punta stiamo ok con questo stiamo ok io direi di prendere il veicolo nuovo veicolo disegno completato e costruiamo il veicolo nuovo veicolo blindato che può ah può portare più soldi probabilmente bene molto bene mi piace questa cosa o forse no andiamo ai premi ancora premio benissimo ricerca super vissuti niente zombie il super zombie uccidiamo il super zombie all'attacco fuggito maledetto ok ragazzi io direi che possiamo chiudere qui il nostro video perché è questo e basta non c'è altro che possiamo fare io non so quanti piani possiamo andare profondi però è pur vero che non posso far durare un video quattro ore per il semplice fatto che non si affitta più ad andare avanti quindi mentre la nostra trivella si appresta a sfondare le porte del tredicesimo piano sottoterra io vi lascio e ci vediamo al prossimo video vi saluto calorosamente tutti quanti e spero che vi piacciano questi video anche se stupidi però mi fa piacere ecco che magari questi video sono apprezzati non tanto per una questione di lucro o quant'altro per carità ma come ho sempre detto per me fare video è uno sfizio cioè li faccio quando mi va abbastanza divertente alcune volte altre volte no però quello è lo scopo principale se non li faccio non è perché non ci sto guadagnando anzi anticipo immediatamente che non sto guadagnando assolutamente nulla ok abbiamo fatto intanto un altro zombie va benissimo dicevo ci salutiamo qui ci vediamo al prossimo video ragazzi e spero di fare qualcosa ci hai scocciato batteria residua e spero di fare qualcosa di più carino se il telefono non ci abbandona prima ciao a tutti sì